Siamo qui a scioperare oggi, molti compagni hanno cominciato ieri alle 12 dalle varie parti, siamo su 7 città fondamentalmente, in pratica tutti i settori più importanti della logistica, la TNT, la DHL, la GLS, le varie altre situazioni, Bartolini eccetera. Lo sciopero in pratica è per il contratto nazionale, si sta discutendo a Roma, è scaduto a dicembre, stanno discutendo per il rinnovo al contratto nazionale dei trasporti e logistica. In pratica stanno creando una situazione di difficoltà maggiore ai lavoratori al posto di risolvere e di aumentare eventualmente le condizioni economiche e normative all'interno. Noi stiamo cercando di portare avanti questa piattaforma, è la forma iniziale dello sciopero per poter cominciare a farci sentire il fatto che devono passare anche tramite noi, non soltanto tramite i burocratici sindacali. È una lotta che comincia fondamentalmente a livello di concentrazione, maggiormente oggi alle 6 e qui già all'interporto ci sono già delle altre buone situazioni, andiamo avanti e poi vediamo la giornata fino alle 6 di domani mattina.